Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità e per averci invitato a questa intervista, a questo splendido festival e ovviamente per averci sopra il vostro palco grosso allo Sherwood Festival, per noi la prima volta siamo anche un filino emozionati. Per provare a risponderti in maniera completa quella che è la tua domanda, in realtà c'era sempre stata un po' in noi questa sorta di dubbio, comunque di interrogativo su cosa sarebbe potuto essere o comunque come saremmo cambiati nel corso del tempo provando a continuare a fare quello che ci ha sempre appassionato nell'età diciamo quella dei 20 e dei 30 anni. Comunque parliamo di stili di vita nell'ambito sottoculturale, di generi che sono profondamente e storicamente legati a quello che è un po' il culto della giovinezza e quindi un po' in noi si era anche innescata una sorta di sfida che ci poneva di fronte al fatto che il tempo comunque passava anche per noi e che un disco da fare era un impegno importante soprattutto per quanto riguarda gli argomenti da trattare e le cose da dire perché comunque noi in due dischi ne avevamo già dette parecchie di cose e si rischiava comunque di andare a essere un po' a ripetere cose come un disco reiterante che ripete cose all'infinito. E quindi 40 è andato un po' così, è andato un po' con i 40 che si avvicinavano e con quella sorta di sensazione di rivalsa che ci faceva dire ok sono arrivato a 40 però sono ancora come quando ne avevo 20 e questo è già una cosa estremamente importante. Ovviamente sono cambiate tantissime cose, ovviamente ci sono molte più mattinate in cui ripensi alle cose che hai combinato e le filtri con un'ottica e con un filtro diverso quindi maledici anche un po' questa tua forma di vivere però comunque sei sempre qua e continui a fare quello che giuravi avresti sempre fatto. Il tour è partito finalmente direi anche con un po' di ritardo perché inizialmente dovevamo partire in gennaio poi c'è stata l'ennesima ondata e comunque da marzo siamo partiti fortissimi, entusiasmo a mille, abbiamo fatto le date più importanti che avevamo per l'Italia, ci siamo spostati in Germania, abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto il punk in disorderly, abbiamo fatto delle cose in Francia che hanno funzionato, ci siamo poi dedicati a altre città dove comunque eravamo sempre andati bene, vedi Roma, Bologna, Venezia, Marghera e poi appunto adesso con l'arrivo dell'estate si stanno aprendo tutta una serie di situazioni che ovviamente cercheremo di sfruttare al massimo perché abbiamo questo disco da promuovere che sta andando molto bene, abbiamo praticamente ci sono già state due stampe che sono esaurite, si va verso la terza ristampa per un gruppo come noi, per un genere come il nostro in così pochi mesi è un evento più unico che è raro perché io non ho memoria da anni di una band che in quattro mesi brucia a quasi 3000 vinili e quasi 2000 cd e quindi tutto fa ben sperare, sono cose che faranno bene in primis ai Bull Brigade anche a tutto quello che è l'indotto del nostro circuito perché si alzerà comunque anche l'attenzione e ovviamente la band e i ragazzi sono super determinati, poi è chiaro che abbiamo delle persone estremamente competenti e super professionali che lavorano intorno a noi finalmente, è la prima volta che noi scopriamo cosa significa lavorare con un editore, con un produttore, con un manager e quindi comunque ci sono delle persone che ci stanno trattando veramente bene, ci stanno facendo sentire il più possibile il nostro agio e stanno veramente curando tutto nei minimi dettagli affinché il gruppo possa viaggiare e fare bene e questa è una cosa che comunque notiamo che sta facendo anche la differenza perché stiamo vivendo tutto in maniera super positiva e siamo molto determinati è una roba che scalda il cuore perché adesso è un po' di anni che non si vede giovani che si approcciano a questo particolare ambito sottoculturale, almeno noi parliamo per la nostra città ed è veramente difficile, io mi ricordo gli anni in cui avevo magari 20-25 anni io e ogni altra settimana si vedevano persone che si interessavano, arrivavano, si presentavano, poi magari duravano sei mesi, duravano un anno, duravano due stagioni e sparivano però c'era molto fermento, è chiaro che adesso quando succedono robe di questo tipo sono sempre episodi e momenti importanti che ti fanno ben sperare per il futuro, ti danno comunque anche la forza di continuare a fare quello che stai facendo, poi nella fattispecie quella canzone lì tratta un argomento che è sovrapponibile con la lettura che gli hai dato, in realtà è ancora diverso perché parla dei miei figli ed è rivolto a mio padre che è mancato, che non c'è più, quindi io parlo dei miei figli a lui e gli dico già li vedi che crescono come me con quello zaino con su scritto un FX e poi faccio tutta una serie di riferimenti particolari, richiamiamo anche sulla collina perché sulla collina parlavo di un episodio in cui mio nonno mi portò a Superga a diventare tifoso del Toro e a quel punto loro sentono quella canzone e mi chiedono dove sono gli eroi, però lui che sarebbe il nonno dei miei figli non c'è più per fare la stessa cosa che fece suo padre con me, quindi è un po' un argomento che io ho voluto trattare per dirgli delle cose che non ho avuto tempo di dirgli e quindi l'unica maniera di farlo è di cercare di far poi capire ai miei figli cosa era significato per me andare in Superga con mio nonno e quanto avrei voluto che anche loro avessero fatto lo stesso. Rispetto alla domanda che hai fatto, credo che un po' come la storia anche in ambito musicale ci sia una certa ciclicità e effettivamente sembra che stia tornando un pochino quello che c'era quando magari noi avevamo vent'anni. Sicuramente si vede in ambito di pubblico perché comunque si inizia a rivedere qualche ragazzino sotto il palco, forse quello che manca è sopra il palco vedere qualcuno di giovane che si approccia a questo tipo di musica e di scena perché comunque anche girando vediamo che già noi non siamo proprio giovanissimi e continuiamo comunque ad approcciarci con persone e gruppi che hanno comunque un livello di età abbastanza alto, quindi forse è quello che ancora un pochino manca. Sicuramente direi che già basta il nome, Bull Brigade fa intuire quanto il legame con la nostra città e con la nostra squadra del cuore sia comunque fondamentale e in generale comunque quando parliamo di stadio parliamo un po' a tutti, un po' a tutte le persone che si approcciano a quel tipo di sottocultura tranne quelli della Juve come diciamo sempre e comunque sì è sicuramente una parte fondamentale che ha sempre pesato tanto e anche nonostante i tanti cambi di formazione alla fine bene o male siamo sempre lì, sempre pescato tra persone che hanno bazzicato allo stadio, che hanno frequentato lo stadio e di fede granata, tranne poi abbiamo un neo all'interno del gruppo però non ne parleremo in questo momento. il discorso per quanto ci riguarda ma credo anche per quanto riguardi i ragazzi che suoneranno dopo di noi sia legato al fatto che noi comunque in primis abbiamo iniziato a essere dei giovani e quindi delle persone che hanno vissuto la gioventù nei quartieri, nel sottoproletariato nei quartieri più difficili di ogni città, quindi noi ci definiamo sempre dei punk rocker che hanno provato a fare dei musicisti e mai dei musicisti che hanno provato a fare i punk rocker, quindi il fatto di essere indipendenti però non è stata una scelta, cioè noi non abbiamo mai avuto da scegliere se essere indipendenti o avere un contratto. Noi semplicemente siamo delle persone che per passione, per senso di appartenenza, per hobby hanno praticato la strada della musica punk rock e l'hanno fatto da autodidatta e facendo questa roba sono cresciute, hanno capito quello che poteva essere il loro potenziale e giorno dopo giorno hanno imparato e hanno immagazzinato tanti piccoli pezzi che ovviamente è un gruppo che parte con un contratto, magari in sei mesi ci sono persone di 19 anni che partono in un modo e imparano tutto quello che c'è da imparare, noi un po' perché non ci interessava, un po' perché non abbiamo mai visto dentro questa roba un potenziale, era uno scherzo un gioco, un po' per disinteresse siamo arrivati a imparare tutta una serie di cose adesso che abbiamo 40 anni, che se tu fai il lavoro in un certo modo riesci ad apportare più gente ed è un bene per tutti, che se tu ti appoggi una persona che sa fare le cose porti più gente ed è un bene per tutti, quindi voglio dire il nostro approccio è stato un approccio dai indipendenti ma perché noi veniamo da un percorso che non ci siamo mai neanche posti il problema di scegliere di essere indipendenti, noi abbiamo iniziato a fare le robe alla do it yourself perché volevamo andare in sala prove, berci le birre, fumarci le canne, suonare e scrivere canzoni che poi magari facciamo sentire a mia nonna, mia zia, la fidanzata e ci sentivamo importanti o suonare alla festa del liceo, poi però col tempo siamo tra virgolette cresciuti, abbiamo imparato tante cose e siamo arrivati a fare dei palchi importanti come quello di Sherwood, anche noi, che veniamo dall'oratorio di Grugliasco, come lui. Va bene? Grazie mille. Grazie mille a voi e buon concerto e buona serata. Grazie mille a voi.